Finalmente, l'attesissimo momento si avvicina, il finale della prima stagione della promessa. Gli spettatori sono rimasti col fiato sospeso, intrappolati tra misteri e intrecci, e ora è arrivato il momento di svelare tutto. Dopo una marcia travolgente verso l'istituto di cura, la situazione si divide in due fazioni. Da un lato ci sono i perdenti, guidati da un abbattuto Alonso, che cerca ancora disperatamente sua moglie. Petra si ritrova senza protezione dopo la scomparsa della Marchesa e diventa soltanto un'altra domestica anonima. Dall'altro lato ci sono i vincitori, Elisa di Grazzalema, che si avvicina sempre di più all'eredità del barone, Lorenzo, che ha finalmente compiuto la sua vendetta, e Catalina, pronta a riprendere le redini della tenuta. Ora che Catalina è tornata a occuparsi della tenuta, si trova sopraffatta dal carico di lavoro, e chiede aiuto a Martina per gestire il palazzo. Affronta le sue nuove responsabilità con nervosismo, ma anche con entusiasmo. Nel frattempo, Candela e Simona vogliono migliorare le loro capacità di lettura, e chiedono a Gregorio il permesso di dedicare del tempo allo studio. Tuttavia, c'è un elemento mancante, un tutor che le aiuti nel loro percorso. Nel frattempo, Lope cerca di spiegare a Salvador, appena tornato dal fronte, che il matrimonio di Maria Fernandez era nel migliore interesse di Maria stessa, ma finisce per peggiorare la situazione tra loro. La storia d'amore tra Gianna e Manuel si complica ulteriormente. Gianna non riesce a capire il comportamento freddo di Manuel, nei suoi confronti. Ciò che non sa, è che l'uomo è diventato una marionetta, nelle mani di Jimena, che lo manipola a suo piacimento. Manuel si scusa con Gianna, per il suo comportamento, ma lei gli risponde con indifferenza. Ha ormai capito che, nel palazzo, lui è l'erede della famiglia Luian, mentre lei è solo una domestica. Decidono di lasciarsi, e rinunciare a un amore che sembrava impossibile. Ma le sorprese non finiscono qui. Nel corso della prima stagione si verifica un omicidio, quello del barone Quan. Il barone è un uomo senza scrupoli, che ha abusato più volte di Pia, dimostrando un totale disprezzo verso le donne. Nel tentativo di difendere l'amica Teresa, Pia uccide il barone. Successivamente, Gianna e Pia simulano un incidente d'auto per sbarazzarsi del corpo, che viene ritrovato in un burrone senza destare sospetti. Nel frattempo, Cruz decide di aiutare con le indagini sull'omicidio e mette a disposizione tutte le risorse a sua disposizione per far luce sulla situazione. Le domestiche coinvolte continuano a coprirsi a vicenda, mantenendo segreta la verità sulla morte del barone. Gianna e Pia sono costretti a nascondere il loro coinvolgimento e vivono nell'ansia costante di essere scoperte. Nel frattempo, Gianna inizia a sospettare che Petra, braccio destro della Marchesa Gimena, sia coinvolta negli intrighi che circondano il palazzo. Attraverso indizi sottili e conversazioni segrete con Teresa, Gianna raccoglie prove che mettono in luce il lato oscuro di Petra. Si scopre che Petra ha una relazione segreta con il signor Bagliezza e potrebbe avere motivi personali per voler nuocere a Pia e distruggere la sua felicità. Decisa a svelare la verità, Gianna si avvicina a un misterioso libro trovato nella biblioteca del palazzo. Il libro contiene antiche profezie e segreti familiari, rivelando una connessione tra la famiglia Luian e un oscuro passato. Gianna si immerge nella lettura e scopre un legame tra la cicuta, l'avvelenamento di Pia e il destino tragico di molte donne nella storia della famiglia. Con l'aiuto di Teresa, Gianna riesce a svelare il piano di Petra. Le due amiche scoprono che Petra ha accesso a erbe e veleni potenti, tra cui la cicuta, e che sta lentamente avvelenando Pia per vendicarsi della sua felicità e della sua relazione con Gregorio. Nel frattempo, i dolori di Pia si intensificano e diventano sempre più frequenti. Gianna collega questi sintomi al giorno del matrimonio di Pia con Gregorio, quando anche allora i dolori erano presenti. È chiaro che Pia è stata avvelenata regolarmente nel corso del tempo, mettendo a rischio la sua vita. Con l'aiuto di Cruz e il sostegno di Teresa, Gianna organizza un incontro segreto con la cameriera di Donna Jimena, che rivela informazioni cruciali. La cameriera conferma le sospette di Gianna, indicando Petra come l'artefice dietro l'avvelenamento di Pia. Rivela che Petra è stata sempre vicina a Donna Jimena e ha agito sotto le sue direttive. La tensione raggiunge il culmine quando Pia inizia a soffrire di forti dolori allo stomaco. Gianna si rende conto che il tempo stringe e deve agire rapidamente per salvare la vita di Pia. Decisa a smascherare Petra e porre fine a queste malefatte, Gianna si lancia in un'ultima ricerca di prove definitive. Nel finale emozionante della prima stagione, Gianna riesce a raccogliere le prove necessarie contro Petra e presenta tutto al signor Baiezza. Con il supporto di Cruz e delle altre domestiche, Petra viene arrestata e la sua complicità con Donna Jimena viene rivelata. Pia viene finalmente curata e il suo stato di salute migliora gradualmente. Gianna si trova di fronte a una scelta difficile, continuare la sua vita come domestica o abbracciare il suo ruolo di erede della famiglia Luyan. Nonostante le difficoltà e le perdite che ha subito lungo il percorso, Gianna decide di lottare per la sua felicità e per svelare tutti i segreti che circondano la famiglia Luyan e la tenuta. Nel frattempo, Lorenzo, il vendicatore di famiglia, si rende conto che la sua sete di vendetta non ha portato la pace che sperava. Ha ottenuto la sua rivincita, ma il dolore e la colpa lo assalgono. Decide di abbandonare il suo desiderio di vendetta e di dedicarsi alla ricerca di una vita migliore e più autentica. Catalina, dopo aver ripreso le redini della tenuta, si trova ad affrontare le sfide dell'amministrazione e del mantenimento del prestigio della famiglia. Deve fare i conti con la corruzione e gli intrighi interni, ma si rifiuta di piegarsi e lotta per proteggere ciò che è suo. Intanto, Gregorio e Martina, affascinati dal desiderio di apprendere e crescere, si dedica allo studio e fanno progressi sorprendenti. Con il sostegno di Catalina, diventano sempre più importanti nel funzionamento del palazzo e guadagnano la fiducia di tutti. Mentre la stagione si avvia alla conclusione, nuovi personaggi entrano in scena, ognuno portando con sé segreti e misteri. Un misterioso avvocato compare sulla scena, ribendicando diritti sulla tenuta. Un'altra domestica, Camila, sembra nascondere un passato oscuro e ha un legame misterioso con uno degli ospiti dell'Istituto di Cura. Le vite di tutti i personaggi si intrecciano sempre di più, aprendo la strada a nuove trame e rivelazioni nella seconda stagione della promessa. Il pubblico, è completamente coinvolto nella storia, affascinato dai colpi di scena, dalle relazioni complicate, e dai segreti celati nella tenuta. La promessa diventa un fenomeno culturale, lasciando gli spettatori in attesa della prossima stagione, desiderosi di scoprire cosa riserva il futuro, per i loro amati personaggi. Prima di concludere, vi voglio svelare un ultimo dettaglio intrigante che renderà impossibile resistere alla voglia di continuare a seguire la promessa. I destini dei nostri personaggi sono destinati a intrecciarsi in un modo che cambierà tutto. Le loro vite sono sull'orlo di una svolta epica e il prossimo episodio sarà fondamentale per il loro futuro. Quindi, se volete scoprire cosa accadrà a Gianna, Pia, Lorenzo e alla misteriosa Marchesa Gimena, non potete perdervi neanche un istante della prossima stagione di La Promessa. Iscrivetevi al nostro canale per non perdere nemmeno un episodio, perché la verità sta per essere svelata e i colpi di scena vi lasceranno senza fiato. Unitevi alla nostra community di appassionati spettatori, lasciatevi coinvolgere dalle emozioni travolgenti e partecipate attivamente alla discussione. Fateci sapere le vostre teorie. Condividete i vostri momenti preferiti e unitevi a noi nel cammino verso la scoperta della verità. Siete pronti per un'esperienza indimenticabile? Allora non perdete tempo e rimanete sintonizzati sul nostro canale per continuare a seguire la promessa. Non ve ne pentirete!